Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovo glitch dei soldi ragazzi Per fare questo glitch dei soldi avete bisogno di un amico Di una clubhouse, di essere presidenti e di stare in pubblica E il vostro amico dovrà essere nel vostro motorcycle club Quando avete tutti questi requisiti Ovviamente è una modo da duplicare Come dicevo, quando avete tutti questi requisiti Andate ad ubriagarvi Voi dovrete ubriagarvi E giustamente andando a fare il glitch Per forza voi dovrete ubriagarvi Perché comunque altrimenti non avete il tempo di fare il tutto Diciamo Una volta che vi siete ubriagati Che cosa dovete fare? Andate al pallino azzurro Intanto il vostro amico sarà entrato in un'attività In un'attività E comunque dovrà chiudere la sessione E a questo punto che cosa dovete fare? Vi unite al vostro amico La sessione ragazzi Magari è pubblica Potete farla anche crashare Nel senso potete anche rimanere voi in pubblica Da soli con il vostro amico Senza nessun problema Il glitch funziona lo stesso Però comunque dovete partire da una pubblica E come vi dicevo Vi unite al vostro amico che ha la sessione chiusa E vi risbatterà automaticamente nella clubhouse A questo punto ragazzi Che cosa dovete fare? Dovete fare uno scambio Ma Per facilitare questa cosa Allora innanzitutto dovete andare Qui dove sto andando io Mentre il vostro amico dovrà mettersi Davanti all'entrata del clubhouse L'entrata non la serranda del garage E tenere il pad premuto In maniera che non lo farà entrare Si metterà sul pallino azzurro in pratica E premerà il pad Per comodità ragazzi Poi potete fare come cazzo vi fare In maniera tale che non lo farà entrare E quando voi farete questo scambio Lui toglierà il pad In maniera da entrare Qui adesso ragazzi Senza invito in pratica Non ci sarà bisogno di invito In pratica Come voi sostituite il terzo veicolo Perché dovete fare lo scambio Prima con la seconda Seconda con la terza Come avete visto nel video Quando voi sostituite il terzo veicolo Automaticamente il vostro amico Schiaccia il pad Elimina il meno interazione Entra direttamente in garage Questa è per una questione di comodità Insomma di velocità Però se il vostro amico Riesce ad entrare in garage Nello stesso istante In cui voi state facendo il glitch Meglio ancora insomma Una volta usciti dal garage Comprate un vestino Aspettate che vi arrivi la notifica Come nel mio caso Il vostro amico ragazzi Resterà buggato Tra le porte del clubhouse Una volta in pratica Entrati nella clubhouse Che cosa dovete fare? Prendete la moto che avete duplicato Gli cambiate la targa E il gioco è fatto Avrete la vostra moto duplicata Allora ragazzi C'è anche un altro glitch Dei soldi Che penso di portare Conto di portare Anche se è un glitch del cazzo Che ha Diciamo Richiede Molta gente Richiede veramente Molta gente Quattro persone secondo me Sono un po' esagerate Per fare un glitch Però vedrò di portarlo Sul canale Quindi restate collegati Sul canale Non so se oggi pomeriggio Farò una live Di cui vi stavo parlando Però Vedrò Valuterò Questa cosa Per il momento Ecco a voi Il glitch dei soldi Non è molto Però è fattibile Per me è importante Che i glitch Siano fattibili Ragazzi Detto questo Un saluto a tutti Rimanete connessi Sul canale Iscrivetevi Ragazzi Non fate le teste De cazzo Lasciate un like Del cazzo Perché non vi costa niente Lasciate like Per uno che scarta Una caramella De merda E fa le fasce da cazzo Non potete lasciare like Per me Che comunque Faccio Video utili Comunque va bene Ragazzi Detto questo Vi lascio un saluto a tutti E al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti